Abbiamo un saluto da un nostro caro amico a proposito di neve che in questi giorni ne è caduta tanta e il nostro Gianluca Mariani che non so dove è andato a finire con la neve, è andato a camminare da qualche parte insomma sempre infagottato come fa lui, guardiamo Oggi mi trovo sulle Dolomiti, siamo in provincia di Belluno Vi porterò alla scoperta delle bellezze naturali e degli animali che vivono nella zona Dopo pochi minuti dal mio appostamento ecco comparire un pettirosso Come per magia arriva anche il merlo acquaiolo, un meraviglioso esemplare che risale questi roscelli nel periodo invernale Le emozioni sulle Dolomiti non finiscono mai, ecco comparire un branco di caprioli Ormai è sera, vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura Grande il nostro fotografo naturalista Gianluca Mariani che riesce a fare delle foto veramente spettacolari Sempre imbacucato perché gli animali si avvicinano soltanto in questo modo